innanzitutto volevo scusarmi con tutti voi perché in questi giorni avevo sbagliato per quanto riguarda l'informazione di essere andata in vacanza in questa settimana invece in realtà ho rimandato tutto da dopo l'11 agosto quindi vi chiedo scusa poi successivamente vedremo se organizzarci con degli shorts perché probabilmente non riuscirò a registrare detto ciò ragazzi rieccomi qui sabbenerica bentornati sul mio canale io sono anton99 e oggi vi voglio parlare di matteo brunori a venezia evidentemente mi sono espresso male il mio intento era far passare il messaggio che comunque ci vuole equilibrio sia quando le cose vanno bene andranno bene sia quando le cose vanno meno bene di avere un equilibrio e di non esaltarsi nel momento di gioia e non deprimersi nel momento magari di delusione ebbene sì ragazzi matteo brunori ha parlato dopo più di due mesi mi viene a dire dall'ultima volta che matteo ha parlato sono contento di dire che alla fine era tutta un'incomprensione perché da quello che ha detto nei canali del palermo lui racconta sono fiero di indossare questa maglia di fare il capitano e di essere entrato nella storia di questo grande club ho sempre onorato e rispettato questi colori e lo continuerò a fare a venezia mi sono espresso male quello che vi dicevo prima il mio intento era far passare il messaggio che ci vuole equilibrio quando le cose vanno bene e quando no non esaltarsi nei momenti di gioia non deprimersi nel momento di delusione il palermo andrà in serie a e solo questione il tempo quindi diciamo ha parlato anche in ottica futura poi tra l'altro lui vi ricordo quando ci fu quell'intervista che tutti hanno diciamo letto male hanno pensato ma che cavolo ha detto brunori allo stesso tempo lui ha detto una cosa importante io voglio salire in serie a col palermo spero di non aspettare ancora molto poi ripeto il calciomercato è imprevedibile quindi può essere pure che queste dichiarazioni poi alla fine non fanno questo grande effetto nei confronti anche dei tifosi perché molti si sono già messi con la testa sono convinti che ormai quello che ha detto prima equivale a metterci una pietra tombale sopra e a essere sincero io invece avevo iniziato a cambiare un po' idea nel momento in cui ho visto il ragazzo che nella partita contro il Leicester viene a mancare nel senso ci sono tutti i compagni che con i problemi muscolari erano lì a seguire la squadra mentre lui invece assolutamente no il che là mi ha fatto un po' storcire il naso perché essendo il capitano doveva prendere in quel momento la palla al balzo e dire cavolo sto con i miei compagni e vado a vedermi la partita perché voglio dimostrare in questo momento quanto valgo soprattutto come persona in quel caso non l'ha fatto probabilmente per via di quel fastidio muscolare questo significa anche smentire un po' quelle che sono state le famose frasi di alcuni giornalisti che hanno detto che Brunori aveva finto un infortunio nella partita contro il Venezia secondo me sono solamente malelingue perché francamente un giocatore tu come fai a vedere e a sapere soprattutto che finge di infortunarsi anche perché mi pare molto strano che Brunori finga un infortunio per andarsene in panchina cioè che senso ha francamente io dico finché non ci sono delle prove comprovate che qualcuno testimoni realmente che era lì davanti ragazzi questa è per me calunnia francamente calunnia nei momenti in cui invece l'intervista di Brunori post Venezia per me in quel caso in quel momento si è espresso male e anche Brunori su alcune cose ha sbagliato ovvero secondo me questo silenzio poteva magari spezzarlo prima ci ha ammesso troppo probabilmente sì però anche la piazza non dico tutti perché per fortuna non tutti pensano che Brunori abbia fatto questa cosa appositamente apposta per offendere a qualcuno tant'è che io personalmente non mi sento offeso dalle parole che disse lui post Venezia ma bensì sono tutti coscienti che Brunori non abbia detto quelle parole contro la città di Palermo né contro i tifosi del Palermo mentre poi c'è una parte della gente che gli piace marciarci sopra francamente poi per carità possono essere pure parole per stemperare un attimo gli animi però intanto ha dato delle spiegazioni poi se quelle spiegazioni non convincono a tutti pazienza ragazzi però è anche vero che noi è impossibile che alla prima incomprensione che sentiamo o vediamo magari qualcuno che diciamo ha il naso storto nel momento in cui c'è una sostituzione si pensa ah ma quindi lui vuole andare lì no semplicemente dobbiamo evitare di avere questi pensieri per la testa e poi eventualmente far chiarire al meglio Matteo Brunori a quanto ho capito poi probabilmente andrà in conferenza stampa non lo so adesso se farà delle dichiarazioni a freddo anche andare a tu per tu con i giornalisti di Palermo e Toccio io sono del parere che Brunori si sia espresso male l'ha detto e l'ha ribadito su questo comunicato ha detto che comunque da poco è diventato papà per questo legame importante con Palermo l'abbiamo voluta far nascere qui proprio perché c'è un legame indissolubile c'è da dire una cosa lui ha parlato quindi ora nel momento in cui va in campo è giusto che i tifosi vanno a sostenere il ragazzo poi se adesso vi fa antipatia quello è un altro discorso finché è un calciatore del Palermo io lo sostengo come poteva essere qualsiasi altro calciatore a sbagliare con quelle dichiarazioni che ripeto non è che ha detto alla tifoseria sono degli indegni sono degli stronzi non ha detto questo è palese che ci è rimasto male perché l'ha detto anche nel comunicato però è vera anche una cosa cerchiamo di migliorare anche noi stessi alle volte nel dire certe cose soprattutto alcuni giornalisti vi prego non fate la posta ogni volta con queste dichiarazioni dicendo ah ma lui ha detto questo ma lì ha finto l'infortunio è incredibile come si cerca sempre il pelo nell'uovo e poi infilare così proprio di continuo il dito nella piaga per incrementare ancora di più non dico un odio anche se purtroppo è anche un odio si è creato insomma quella campagna d'odio vi ricordate che fece un video tempo fa attorno a Brunori da quel momento in poi che ha chiuso la stagione contro il Venezia al Pierluigi Penzo da lì proprio alcuni tifosi hanno messo la pietra tombale su Brunori perché ha detto quelle cose ed io ad essere sincero da tifoso direi un attimo ma perché ogni tanto non facciamo mia colpa a noi piuttosto che dare la colpa ai calciatori quindi il mio discorso è questo un altro piccolo argomento voglio fare i complimenti a Dionisi per l'amichevole che ha fatto contro il Leicester proprio quando è mancato Brunori in tribuna ha fatto veramente una bella partita proprio da tecnico ha dimostrato vabbè che il Leicester aveva pure qualche giocatore mancante ma è pur sempre il Leicester e la gran parte della squadra c'era ha fatto vedere tutto il suo valore soprattutto quando è stato così ossessivo nei confronti di alcuni suoi giocatori nel fare il contromovimento nel chiedere come calciare la palla sono tanti piccoli dettagli che non bisogna tralasciare anzi bisogna evidenziare e bisogna tenerne conto fino a lungo termine quindi poi mi auguro da parte del Leicester che questo modo di interpretare il lavoro con la compattezza col gioco corto col fraseggio si possano applicare poi in campionato quindi spero di non sbagliarmi su di lui ditemi la vostra riguardo a questi due argomenti alla fine che vi ho portato e noi ci becchiamo come sempre al prossimo video e sempre forza Palermo grazie a tutti